Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo episodio di Crypto Salad. Io sono Federico, oggi è il 18 ottobre 2018 e nei video di oggi voglio condividere con voi alcune notizie interessanti che sono uscite nelle ultime ore, negli ultimi giorni, ovviamente sul mondo delle cripto, dei bitcoin e della blockchain. Prima di condividere con voi queste notizie diamo una veloce occhiata al mercato, guardiamo la chart di bitcoin insieme e capiamo che cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni, nelle prossime ore e ovviamente voglio ringraziare sempre quelli che si iscrivono al canale, che ci supportano e che condividono i nostri video. Mi raccomando se guardate i nostri video non fate i furbi, iscrivetevi al canale e cliccate anche la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. Allora ragazzi guardiamo CoinMarketCap nella giornata di oggi, vediamo bitcoin praticamente stabile rispetto al pump che c'è stato qualche giorno fa, siamo rimasti praticamente stabili con un bitcoin fermo all'incirca intorno ai 6.6, 6.650 e oggi 6.536, quindi in leggera flessione c'è questo andamento progressivo leggermente calante. Vediamo che tutto il mercato è tendenzialmente in rosso anche se non di molto e comunque quasi tutte le cripto perdono qualche punto percentuale. Vediamo se c'è qualcosa di interessante da segnalare oggi, abbiamo Polymat che prende l'11,52%, Pivex l'8,22%, Ravencoin di recente listata su Binance, progetto molto interessante, che prende il 6,75%, Makercrypto.com che prendono il 5 e il 4,86%. Vediamo chi performa malissimo oggi, 0x, purtroppo ieri ho fatto il video dove mostrava che 0x era cresciuto del 25% nelle ultime 24 ore, oggi c'è stato il listaggio ufficiale su Coinbase e come spesso succede il cosiddetto buy the rumors sell the news, per cui la cripto era cresciuta tantissimo prima che ci fosse listaggio ufficiale, nella giornata di oggi ha ritracciato con un meno, quasi meno 10%. Poi perde Odyssey, GX Chain, Horizon, non ho idea di cosa sia, Moac e Lisk sono le criptovalute che performano peggio oggi. Vediamo la capitalizzazione, ancora su 209 miliardi di dollari, un volume giornaliero di 11 miliardi di dollari di scambi e una Bitcoin Dominance al 54%. Andiamo a vedere che cosa ci dice la chart di Bitcoin, come sappiamo nella giornata, ci siamo svegliati nella giornata del 15 di ottobre, abbiamo visto che Bitcoin, grazie a questa super candelona, ha praticamente rotto la struttura di mercato che si era creata, uscendo da questo triangolone ribassista che ci stava confinando al suo interno, a partire da praticamente inizio barra metà del 2018. E di conseguenza abbiamo rotto la struttura di questo triangolo, siamo usciti, Bitcoin è salito fino a praticamente 7600 per poi ritracciare. E in questo momento l'andamento non è dei migliori, nel senso che c'è stato un giorno di ritracciamento con Bitcoin intorno ai 6700 e adesso stiamo leggermente scendendo, addirittura adesso, come abbiamo visto prima, siamo sotto i 6600 dollari. Potrebbe essere tranquillamente che rientreremo all'interno di questa struttura nei prossimi giorni. Stiamo a vedere che cosa succederà. Anche perché il motivo per cui c'è stato questo fortissimo pump, l'abbiamo condiviso in un video qualche giorno fa, è stato legato non tanto ad una notizia positiva, a un rinnovato sentiment bullish riguardo a Bitcoin e le cripto, ma è stato un cosiddetto Tether FUD per cui gli investitori hanno venduto Tether perché appunto ci sono notizie negative riguardo la criptovaluta alla stablecoin Tether piuttosto che ci sono delle notizie negative riguardo all'exchange a cui è collegata che è Bittrex e quindi gli investitori hanno venduto Tether per comprare Bitcoin e anche Ethereum piuttosto che altre cripto che avevano il pairing con Tether. Infatti se notate le cripto che hanno il trading pair collegato a Tether sono quelle che hanno guadagnato di più nella giornata del 15-10 e quindi le persone, gli investitori hanno venduto Tether per comprare Bitcoin. Questo ci ha portato in maniera un po' fittizia al di fuori di questo triangolo che ci confinava ormai da parecchio tempo. Stiamo a vedere quello che sta accadendo e che stiamo in questo momento riscendendo. Vediamo che cosa succederà quando Bitcoin tornerà a toccare l'alto superiore di questo triangolo intorno ai 6.510. Quindi stiamo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni. Andiamo a vedere le notizie che ho scelto per voi. La prima ne avevamo già parlato qualche giorno fa. C'era un rumor per cui una voce che sosteneva che ci fosse una partnership tra la blockchain Tron e il principale motore di ricerca cinese chiamato Baidu. E praticamente la notizia poi è stata confermata. È stata confermata però dall'account Twitter di Tron che ha confermato che c'è effettivamente questa cooperazione tra Baidu che è un vero gigante, un vero colosso cinese e Tron. La cosa che mi lascia un po' perplesso è che la collaborazione non riguarda la possibilità di proporre a Baidu o insieme Tron e Baidu proporre delle soluzioni blockchain ma la collaborazione sembra che avverrà a livello del cloud business per cui del cloud computing, del cloud service. E quindi c'è questa collaborazione che in realtà non riguarda esattamente la blockchain ma riguarda i servizi cloud offerti da Baidu. Nel tweet Tron appunto dice che è un inizio di partnership che poi porterà le due aziende a confrontarsi anche sui temi legati ovviamente alla blockchain. Quindi in qualche modo la partnership tra Baidu e Tron è stata confermata. Seconda notizia che non è una vera e propria notizia ma è questo esperto trader, esperto di analisi tecnica il quale in qualche modo garantisce che Bitcoin non arriverà mai a rompere il supporto dei 6.000 dollari. Per cui in questi giorni è cambiato un pochino il sentiment per cui è diventato più positivo dopo che Bitcoin è salito a 6.600-6.700 dollari. Prima che ci fosse questo pump c'era molta negatività, si pensava che Bitcoin potesse arrivare di nuovo a 6.000 dollari e magari rompere quel supporto. Tuttavia questo trader Eric Thies ritiene che è impossibile che Bitcoin vada al di sotto dei 6.000, anzi non esattamente impossibile ma veramente improbabile, perché il supporto è già stato testato più di 20 volte. Quindi essendo un supporto che è stato testato tantissime volte ed ha retto tendenzialmente è un ottimo segnale che difficilmente riuscirà a rompere quel supporto. E lui dice che l'unico avvenimento che potrebbe comportare una rottura di questo supporto potrebbe essere un imprevedibile evento negativo che possa impattare ovviamente negativamente il mercato delle cripto. Potrebbe essere come per esempio un exchange che viene hackerato piuttosto che Tether per esempio che va a zero. possono essere sicuramente delle notizie che potrebbero impattare negativamente il mercato delle cripto e quindi eventualmente andare a scuotere il supporto che esiste ai 6.000 dollari. Comunque questo trader garantisce che questo supporto, visto che è stato testato talmente tante volte, continuerà a resistere. Andiamo a vedere la notizia successiva. Oggi c'è questa notizia di Goldman Sachs e Novogratz che è questo Bitcoin bull per cui un investitore molto positivo riguardo al futuro di Bitcoin che hanno partecipato a questo round di investimento che ha ricevuto questa startup, chiamiamola così, che si chiama BitGo il quale vuole creare un crypto wallet per cui una piattaforma attraverso cui sarà possibile per gli investitori istituzionali e per gli individui wealthy per cui per i retail investor molto ricchi sarà possibile comprare e fare trading di crypto asset. Quindi questo BitGo è praticamente questo wallet specificatamente dedicato per investitori istituzionali. Quindi c'è stato questo round di investimento dove BitGo ha raccolto 58 milioni in totale e sia Goldman Sachs che Novogratz hanno partecipato a questo investimento. E ovviamente parla il CEO di BitGo il quale dice che BitGo è in questo momento la piattaforma meglio posizionata per andare a servire investitori istituzionali che vogliono entrare nel mondo delle crypto e degli asset digitali. E quindi è interessante ovviamente vedere che Goldman Sachs, la finanza tradizionale, entra pesantemente nel mondo delle crypto investendo anche in aziende che in qualche modo si occupano di investimenti piuttosto che di wallet come in questo caso. Altra notizia, in realtà qua è una considerazione che è uscita su Reddit e in qualche modo viene fuori che Verge che è in questo momento tra le prime 40 crypto per capitalizzazione è praticamente un progetto che a livello di sviluppo e quindi su Gtab è praticamente un progetto che è quasi morto. Nel senso che Gtab è una piattaforma dove si possono in maniera molto semplificata visionare quelli che sono gli sviluppi che vengono fatti su un certo progetto e quello che si nota è che Verge è un progetto che praticamente non riceve mai nessun tipo di aggiornamento a livello di codice quindi nessuno sviluppatore sta lavorando per migliorare la tecnologia di Verge e i pochi aggiornamenti che ci sono riguardano cose tipo triviali come per esempio caricare qualche documento nuovo comunque modifiche praticamente irrilevanti e quindi questo utente di Reddit si chiede come sia possibile che una crypto in qualche modo quasi abbandonata possa essere ancora tra le prime 40 crypto per capitalizzazione e questo ci riporta un altro discorso sul quale varrebbe la pena fare un video che riguarda quanto in questi progetti crypto che seguiamo ci sia di tecnologia, di vero valore, di innovazione e di tecnologia e quanto invece ci sia semplicemente di speculazione e quindi questo è un tema interessante se voi avete ovviamente dei commenti su quanto sia speculazione e quanto sia tecnologia fatemelo sapere nei commenti ragazzi io vi ringrazio per aver tolto 10 minuti alla vostra giornata per seguire il video di oggi ovviamente se avete qualcosa da aggiungere scrivete nei commenti ci vediamo al prossimo video e buona serata ciao